Bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per questo lunedì. Rapido rinforzo dell'alta pressione atteso sull'Italia produrrà un miglioramento del tempo a partire dal nord mentre gli ultimi fenomeni coinvolgeranno il sud, fenomeni legati al ciclone sviluppatosi in queste ultime ore. Quindi nel fine settimana l'alta pressione porterà bel tempo al nord, cieli sereni o poco nuvolosi pressoché su tutto il settentrione e anche parte del centro Italia. Ancora residui, nubi, densamenti e precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Puglia e buona parte del sud in particolar modo tra la notte e le ore mattutine e nel primo pomeriggio dopodiché l'alta pressione si estenderà anche al sud e produrrà anche qui un graduale miglioramento del tempo. Le temperature in calo nei valori minimi attesi tra i 7 e i 15 gradi massime attorno ai 18-22 gradi. Con questo è tutto, a tutti voi auguriamo un buon inizio di settimana.